Caro papà, quest'anno il Covid-19 non ci ha permesso di fare la cerimonia per te. Non abbiamo potuto incontrare tutti i tuoi colleghi, i tuoi amici. Io sono un po' triste, però tu lo sai che ti voglio tanto bene e ti penso ogni secondo. Appena possiamo togliere le mascherine e le chiese aprono, ti prometto che organizzo una messa con il Vescovo, i Carabinieri e tutti noi. Ti voglio tanto bene papà, mi manchi da morire.